La Parabit Club Living Tradition questa notte con una legna poca a paura. Signore e signore dei misi al centro, è un piacere dare che tutti i consori partire da questo momento e voglio sentire un grandissimo applauso per il mister Pietro Ribella Vistri! La Parabit Club Living Tradition questa notte con una legna poca a paura La Parabit Club Living Tradition questa notte con una legna poca a paura La Parabit Club Living Tradition questa notte con una legna poca a paura Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.